Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video a te prima dalla redazione, iscritti diretta dal nuovo misterioso Lady Bluie e dal vostro amico Bomber, un saluto anche dalla nostra mascotte Pablo, link di iscritto e come sempre trovate tutte le info per quanto riguarda la redazione, i canali amici eccetera eccetera. Iniziamo subito con la te prima, ecco la prima notizia bomba, annunciata la data di uscita di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 che si chiama Rabbit, in esclusiva per PlayStation 5 in uscita il 29 febbraio 2024, ovviamente porteremo la recensione a box con GameStart, direi da passare alla prossima notizia, ci vediamo tra poco. La prossima notizia riguarda Marvel's Spider-Man 2, creato da Insoniac Games, in uscita come esclusiva PlayStation 5 il 20 ottobre 2023 e il nuovo video mostrato durante lo State of the Play fa vedere un po' l'esplorazione. L'esplorazione è una mappa che è meramente più grossa rispetto a quella del primo capitolo, quindi in questo caso si traduce in varietà di abitazioni, in varietà di missioni secondarie e ovviamente ci saranno anche i soliti collezionabili per trovare qua in giro un po' là, tipo i fumetti via dicendo. Insomma, non vediamo l'ora che ci arrivi tra le mani per portarvi la recensione a box con GameStart. Direi da passare al prossimo video interessante dello State of the Play. Di questo ve lo dico, porterò le prime impressioni, come ho fatto col precedente loro gioco. Stiamo parlando, ed è meno, dei creatori di Genshin Impact, ovvero Oyoverse. Oyoverse, l'11 ottobre 2023 su PlayStation 5, ha presentato durante lo State of the Play Hongkai Star Rail, titolo già presente sui sistemi mobile. Si tratta di un RPG a turni, un po' in stile fan of fantasy, come i primi praticamente. Il gioco è in uscita per il momento per PlayStation 5. Abbiamo già detto che già il gioco è disponibile su mobile, quindi in questo caso il gioco è sempre il solito gansha, dove praticamente si collezionano personaggi tramite un sistema di loot box, che si può guadagnare tramite la moneta del gioco, oppure comprando quei soldi veri, tra virgolette, le micotrasazioni. Il titolo ci interessa perché, direi e dico la verità, ci piace di più di Genshin Impact. E non vediamo l'ora di metterci in mano per portarvi le prime impressioni. Direi da passare al prossimo thriller. Signori, non è una svista, anzi è pura verità. Tomb Raider 1, 2, 3, un remastered in uscita il 14 febbraio 2024 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Il thriller è stato annunciato durante il Nintendo Direct, ma poi ovviamente tutte le marche Xbox e PlayStation hanno confermato la data di cita anche sulle loro console. Quindi in questo caso è un gioco multipiatta. Bene, 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 molto bene, finalmente tre grandi classici in versione rimaste sulle nostre console. Durante il Nintendo Direct, Atlus e, tenetevi forte, Vanilla Var, hanno annunciato un nuovissimo gioco, un gioco di ruolo tattico, chiamato Unicorn Overlord, disponibile l'8 marzo 2024 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X e S. Nel gioco potremo scegliere 60 personaggi ognuno con le proprie abilità e l'abitazione sarà in stile medioevale. La storia segue il principe caduto che col suo anello leggendario dovrà iniziare una lotta contro il mare. Benissimo, molto bene, il gioco avrà anche una campagna e anche una modalità multijicatore. Recessione unboxing con Game Start. Prossimo thriller. Da parte di Konami arriva un nuovo annuncio durante, appunto, il Nintendo Direct. Stiamo parlando della remaste di Contra Operation Galuga. Sarà disponibile nel corso del 2024 su Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Come si vede dal thriller, si può notare un miglioramento grafico e, ovviamente, gli sviluppatori hanno promesso una modifica per quanto riguarda la difficoltà di gioco. Interessante in elenco per portarvi la recessione unboxing, se caso esci in versione digitale, con Game Start. Direi da passare alla prossima notizia. Però, chi l'avrebbe mai detto? Annunciata la data di uscita di Warhammer Rogue Trader. Prodotto e sviluppato da OffCut. Genere TS RPG a turni. Ovviamente in uscita per il 7 dicembre 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Il thriller è accompagnato di alcune sequenze di gameplay, dove fa vedere, praticamente, alcuni personaggi con le loro abilità. Meramente interessante. Non vedevo l'ora di portarvi la recessione unboxing appena lo avremo tra le mani, se per se esce in versione fisica. Altrimenti lo porteremo in digitale. Prossimo thriller. Eccoci qui con una nuova notizia. Stiamo parlando di Junged Alliance 3. Lo so che è già uscito per PC, ma finalmente arriva la data di uscita per la versione console. Il 16 novembre sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Non vediamo l'ora di portarvi la recensione con GameState e se caso esce in versione fisica, porteremo l'unboxi. Ultimo thriller. Ci vediamo tra poco. Sinceramente pensavamo che fosse stato cancellato, ma invece siamo stati smentiti da Paradox. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 è ancora vivo. Lo sviluppo è passato da Chennai's Room, che il gioco è previsto tra il 2024 su PC, Xbox Series X, S e PlayStation 5. Ovviamente il thriller mostrato da Paradox Interactive mostra alcune sequenze del gameplay, ma al momento purtroppo non c'è ancora una data di uscita ufficiale, quindi rimaniamo in attesa. Paradox fa vedere che lo stato di sviluppo sta procedendo bene e speriamo bene che esca fuori in versione completa, perché quando uscirà di sicuro porteremo recensione e unboxing. Insomma, non vediamo l'ora di interpretare i vampiri. Bene raga, questa è la fine della videoteprima, spero che vi sia piaciuto anche voi nei commenti. Fatemi sapere quale gioco vi ha catturato la vostra attenzione, se avete seguito anche lo State of the Play e mi chiedo dare quali sono i giochi che vi hanno attirato di più. E noi ci vediamo per i prossimi video che sono in lavorazione. Ciao a tutti e grazie come sempre per il vostro supporto. Bye bye!